Musica Correte Perché ho fatto la casa vicino a un dragone Vi proteggerò io Si è bloccato? Scappiamo! No non si è bloccato E sto anche morendo di fame cavolo Devo tornare indietro Oh mamma mia Perché metto le mod? Stupide Perché sono stupido giusto No non voglio spegnerlo Mangialo Scappa Eccolo via Allora Voi vi dovete nascondere qui dietro Ok? No sta tornando qui Perché c'era con noi? Ok facciamo una cosa Ok? Cipolo perché c'era con il povero cipolo? Scappa No Non prendere la legna Non prendere la legna Stupido cipolo Scappa Scappa Ma cosa fa? Ma dai? Ma dai Ha due di vita E sto qui Si mette a prendere la legna Ma un po' di intelligente artificiale Perché c'era con noi? Perché non se la prendo con questo? Questo tizio random qui Perché non uccidi questo qui? Perché gli ho messo la sela colorata mi sa E gli piace No scherzo Sì però Lasciami stare Non aprire l'inventario Ok per fortuna Sembra stupido Nonostante la sua potenza Perché ora in prima persona? Scusami Allora devo ordinare quelli di star fermi Perché in prima persona? Perché là ci sono quelli? Perché non riesco a girare la visuale? Mamma mia Ma io non ho parole Perché non si gira la visuale? Qui lì stanno morendo come delle mosche Guardali Io basta Ora provo ad ammazzarlo Vieni qua Aspetta eh Devo prendere l'arco Vieni Leggati questo Perché non gira la visuale maledetta? Dov'è? Perché non mette le fre... Ma io non c'ho parole C'ho solo quelle narcotiche Ma non mi interessa Dov'è? C'ho anche una mira del cavolo Ma guardate Allora voi Attaccatelo Ok? Vieni qua Su Su via Disintegratelo Mi sono rotto di scappare Quest'oggi non scapperò Tu perirai Quest'oggi E io pure Mi sa perché c'ho una mira orribile Però se vi mettete davanti Sta scappando Oddio L'abbiamo fatto scappare Guarda con che velocità Oh mio dio Ci posta per morire Ma ce l'abbiamo fatta L'abbiamo messo in fuga Qualcuno è morto Mi sa Mamma mia ragazzi Ce l'abbiamo fatta Abbiamo messo in fuga Un drago Galattico E sto morendo di sete Ok Presto devo mangiare Oddio Ok Devo darmi un pochino Di esperienza Perché No Non lo faccio fuori dal video Nel posto di piaccia Dobbiamo costruire un recinto Perché sennò Succede di nuovo Dov'è? Fermo tutti Ok Allora I dilofosauri Ne è morto uno Mi sa Tre Tre Ne è morto uno Sì Non ricordo neanche chi Non l'ho visto Oddio però È stata Una roba epica Abbiamo perso Un dilofosauro E stavamo per morire C'ho un'ansia Terrifizia Cosa è ancora lì È ancora lì Ma l'abbiamo messo in fuga Lo abbiamo fatto scappare Ragazzi Oddio È stato terribile Ma spettacolare allo stesso tempo Se tornerà Gli faremo vedere a noi Chi comanda Vero cippolo Poverita Sta per morire Vediamo un po' Se c'è da mangiare Si si Ne ha tonnellate Quindi ragazzi Terminiamo qui questo video E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Ark Survival Evolved Nel quale costruiremo Delle palizzate Con cui proteggere La nostra zona Quindi ciao Nel prossimo video Nel prossimo video Nel prossimo video Nel prossimo video